Qual è l'impatto del cementificio sulla città di Pescara, sui suoi cittadini e perché questa mattina siete davanti alla direzione della ASL? Beh, abbiamo letto l'autorizzazione già concessa anche dalla ASL nel 2008 al cementificio e grazie a questa autorizzazione il cementificio può emettere più di 800 tonnellate di biossio d'azoto, 70 tonnellate all'anno di polveri, addirittura mercurio, 55 kg di mercurio, 55 kg di cadmio nell'aria, idrocarburi policirici aromatici, addirittura ha l'autorizzazione per emettere una certa quantità non piccola di diossina il cementificio. Riteniamo che sia assolutamente incompatibile con una città. Peraltro segnaliamo che il cementificio è sostanzialmente un inceneritore perché appunto nel 2008 lo hanno autorizzato per bruciare 158.000 tonnellate di rifiuti all'anno, anche di rifiuti speciali pericolosi. Riteniamo che sia anche solo incredibile scoprirlo oggi e gli enti hanno il dovere di informare i cittadini attivamente dando tutte le informazioni. Non è possibile che lo veniamo a sapere solo così, quasi per caso. Cosa dovrebbe fare l'ASL? Adesso deve negare l'autorizzazione al rinnovo dell'autorizzazione. Adesso si è aperta questa procedura per rinnovare per altri 5 anni l'autorizzazione. Noi diciamo che l'ASL deve dire no perché l'area di Pescara, la qualità dell'area di Pescara è già fuori legge ed è una delle peggiori d'Europa. Oggi il presidio, il sit-in qui a Pescara e poi? Invitiamo tutti i cittadini sabato 13 ottobre a partecipare alla fiaccolata contro il rinnovo dell'autorizzazione del cimentificio con appuntamento alle ore 18 a Piazza Alessandrini a Pescara, l'ex tribunale. Quindi sabato manifestiamo per l'area pulita a Pescara.